Lavorare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, questo è il messaggio del sindaco di Catanzaro Abramo durante la conferenza stampa di presentazione della giunta di fine mandato illustrando i contenuti dell'accordo politico programmatico siglato dai partiti e dalle liste civiche delle centrodestra. E' una fase di ritrovata sintonia e sinergia tra le anime delle centrodestra in un momento delicato in cui è stato fondamentale giungere ad un assestamento e ad un riequilibrio necessario dal punto di vista politico, un'aria nuova, dice Abramo, un'atmosfera più serena che ci farà lavorare meglio. A Abramo è poi passato a presentare i nuovi assessori, si tratta di Lea Concolino di Obiettivo Comune che sarà assessora all'edilizia scolastica alla pubblica istruzione dai rapporti con l'università, Rossana Agnasso delle CDU, nuovo assessore alle grandi opere dei lavori pubblici, Stefania Valente, Udc, delegata d'ambiente, politiche sanitarie, Alessio Sculco di Forza Italia si occuperà di affari generali, servizi demografici e società partecipate. Escono invece dalla squadra Abramo, Fabio Talarico, Giulia Brutto, Dimesse si è Rosa Maria, Petitto, restano ai loro posti Giovanni Merante, assessore ad attività produttive, viabilità e traffico, Gian Paolo Mungo assessore allo sport, Filippo Mancuso con delega patrimonio e bilancio, Franco Longo assessore alla gestione del territorio, Gabriella Celestino assessore alle politiche sociali e dal personale, oltre che vice sindaco, Abramo tiene le deleghe a cultura, turismo, fondi europei e rapporti istituzionali. Sì, è una nuova giunta, dopo qualche mese ormai che era stata già discussa ampiamente con i partiti questa nuova composizione della giunta, finalmente oggi la presentiamo alla stampa, c'è un grande entusiasmo anche da parte della coalizione, perché siamo riusciti a firmare un documento che vede sicuramente la mia ricandidatura e quindi ci sono degli obiettivi che vogliamo raggiungere da qui a fine legislatura e questa giunta servirà per raggiungere sicuramente questi obiettivi. Che profili ha ricercato nei nuovi assessori? Professionisti, ci sono due avvocati, ho lavorato in lettere per la pubblica istruzione, quindi sono dei professionisti che hanno deciso di contribuire a realizzare questo programma di fine legislatura, ma soprattutto ringrazio anche i vecchi assessori che sono dei professionisti che comunque si sono messi a servizio della città e hanno fatto uno splendido lavoro, quindi non è che cambio la giunta perché non sono andati bene gli assessori, ma perché c'è un accordo per far ritornare la sana politica, perché non sono mai stato contro la politica, ma ritengo che quella sana debba prendersi la responsabilità di gestire un territorio o una città come quella di Catanzaro. Credo che lo sforzo fatto dai partiti in questo momento, ad aver dato dei nominativi, dei professionisti validi, vada in sintonia con quello che era l'obiettivo del sindaco.